oggi parliamo di linkedin parliamo di gruppi e parliamo di mobilità e lo facciamo perché qualche giorno fa linkedin ha mandato a chi ha la propria applicazione ios un messaggio un aggiornamento raccontando che ci sono alcune modifiche all'esperienza dei gruppi su linkedin ed è stata mandata agli amministratori di alcuni gruppo quali sono le novità in arrivo come si vede qua da questa parte centrale delle mail la parte più importante che non ci sarà più l'app ios dedicata ai gruppi questo dal 15 febbraio 2018 quindi di fatto è già scomparsa ci saranno però alcune novità sostanzialmente due sarà più semplice secondo loro accedere ai contenuti dalla home page e sarà possibile pubblicare video nei gruppi e fare menzioni utilizzando la chiocciola o il simbolo e che dir si voglia il messaggio riguarda soprattutto mobile però possiamo andare a vedere molto velocemente cosa succede sul desktop se è cambiato qualcosa e quindi prova accedere ai gruppi work vado sui gruppi si apre un'altra finestra e qua guardiamo per accedere ai miei gruppi devo andare in alto qua a sinistra prendiamo il retail club ad esempio vediamo che posso iniziare una conversazione se inizio a scrivere però non vedo l'icoda del video quindi da desktop al momento non è ancora possibile condividere ai video cosa che invece posso fare in un post normale sul mio profilo e linkedin quello che posso fare posso magari menzionare vediamo se è vero posso usare il simbolo chiocciolo e scrivere qualche nome e vedere se incominciano a comparire suggerimenti ed eccoli qua in effetti compaiono dove compaiono sia contatti miei diretti che altre persone che non sono contatti diretti ma fanno parte di questo gruppo in questo modo io posso coinvolgerle per aumentare l'engagement della conversazione per favorire lo scambio di opinioni all'interno del gruppo e mantenerlo più vivo questo sul desktop in realtà la parte interessante è quella sul mobile e quindi andiamo a vedere adesso nell'ordine cosa succede su ios e su android allora vediamo adesso una novità dal punto di vista ios la prima è quella più importante che non c'è più l'app dedicata ai gruppi dal 15 di febbraio verificarlo è molto semplice basta entrare nell'app store e fare una ricerca utilizzando come keyword proprio linkedin vediamo quali risultati compaiono allora il primo è linkedin l'app ufficiale gli altri risultati che seguono sono ancora app ufficiali pubblicate da linkedin c'è linkedin job search linkedin slide share linkedin learning linkedin elevate più una sesta applicazione che riguarda il learning sempre di linkedin scorrendo risultati successivi non ci sono altre app ufficiali di linkedin quindi decisamente per accedere ai gruppi adesso dobbiamo fare altrimenti e per farlo dobbiamo utilizzare l'app principale ora stando al messaggio che è arrivato da linkedin dovrebbe essere possibile farlo facilmente dalla home page in realtà qua non vedo pulsanti specifici che rimandano ai gruppi tenendo presente che in alto a sinistra l'icona porta al proprio profilo e l'icona in alto a destra quella con i nove i nove quadratini porta ad altre funzioni esterne di linkedin o accesso premium mentre in basso abbiamo home my network messaging notifications and job quindi nessuno che riguarda i gruppi però per accedere ai gruppi una cosa che si può fare sicuramente e che funziona è quello di entrare sulla barra di ricerca e scrivere il gruppo che volete cercare nel mio caso retail club ad esempio e fra i risultati della ricerca il secondo si vede perché anche scritto a destra è un gruppo quindi basta poi fare tap sul nome ed ecco che sono nel gruppo quello che posso fare adesso è sicuramente contribuire al gruppo ad esempio potrei iniziare una conversazione da qua dovrebbe essere possibile inserire dei video in realtà al momento io non vedo il pulsante del video quindi non so se sia possibile farlo quello che si può fare sicuramente è quello di utilizzare le menzioni per altri membri del gruppo anche per incentivare la conversazione per cui potrei scrivere un nome ed ecco che pian piano compaiono i nomi di altre persone che sono o membri del gruppo o contatti diretti potrebbero anche essere che posso coinvolgere in un post che faccio sul gruppo quindi questa è l'altra novità che sicuramente è utile se fatta direttamente dall'app e forse personalmente per me anche un grande vantaggio perché consente di avere un unico punto in unica app tutte le funzionalità di linkedin ok allora adesso vediamo invece dal punto di vista android che cosa è cambiato anche qua la prima cosa andare a vedere nelle app nel play store se abbiamo qualche differenza se abbiamo l'app di linkedin faccio la ricerca come ho fatto per l'iOS e la compare l'app principale quella suggerita che è già aperta installata e poi abbiamo qua sotto altre opzioni c'è linkedin job search linkedin learning un home workout che è molto divertente ma credo che abbia poco a che vedere con linkedin sicuramente non c'è nessuna app per i gruppi quindi vediamo come funziona in questo caso l'app principale come abbiamo fatto con iOS una cosa che vogliamo fare magari accedere ai gruppi anche in questo caso dalla home io non vedo nessun pulsante specifico che rimandi ai gruppi è quello che posso fare però è esattamente la stessa cosa che ho fatto su iOS cioè vado nella casella di ricerca e scrivo il nome del gruppo che voglio cercare il retail club e esattamente anche in questo caso la seconda secondo risultato c'è scritto gruppo a fianco è quello a cui voglio accedere a che qua posso iniziare una conversazione se voglio scrivere e oltre ai vari pulsanti sotto ne ho uno per le menzioni che è la chiocciola facendo la chiocciola come ho fatto un altro caso posso menzionare contatti privati oppure membri membri del gruppo che magari non sono dei miei contatti diretti ma se condiviamo un gruppo li posso menzionare per cercare di coinvolgerli in una discussione adesso cancelliamo il post quindi questo è un po' il punto quindi android leggermente diverso iOS ma non radicalmente con le stesse funzionalità anche qua iniziando una conversazione non vedo al momento il tasto specifico del video che penso e spero arriverà che invece trovo se vado a creare un nuovo post infatti vedete qua che adesso c'è un quarto c'è una quarta icona sotto oltre a quelle impostazioni la chiocciola per le menzioni la finestra la macchina perdono la camera per le foto e poi c'è un quarto che rappresenta una videocamera per caricare i video questo non è ancora presente nei gruppi ma stando all'annuncio di linkedin lo dovrebbe diventare a breve anche dalla app mobile grazie Grazie a tutti.